ragazzi e ragazzi e soprattutto collezionisti bentornati sul canale oggi grandissima novità l'avete già visto sicuramente dalla copertina ragazzi oggi ci andiamo ad aprire lo starter pack della prima collezione adrenalin dedicata al calcio femminile è uscita in edicola ragazzi sono andato a prenderla per voi ieri in edicola quindi insomma in questi giorni comincerà a uscire in tutte le dicole non solo nelle dicole selezionate dal costo di 9 90 cosa andremo a trovare il raccoglitore il game board la guida ufficiale 4 bustine e 3 limited edition card dietro sul retro andiamo a vedere quello che troveremo ovviamente con le varie rarità che si possono trovare all'interno quindi abbiamo le core le fans le power le gold le world le rare e le x la grafica si vi sembra familiare ora andiamo a scoprire a fine video ci apriamo anche questo pacchetto che mi sono andato a ritirare in posta un pacchetto vintage tra l'altro perché mi segue su instagram ha visto che ragazzi ho aperto anche il profilo vintage quindi se volete tutto ciò che vedete nei video che mi avanza lo butto lì detto questo il tempo di lasciare un like e noi partiamo subito con lo spacchettamento di questo starter pack e allora eccoci qua dedichiamoci subito allo starter tra l'altro ragazzi fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate della nuovissima sigla che ho creato magari preferivate quella quella vecchia magari ne preferite un altro tipo magari fatemelo sapere qui sotto nei commenti queste le quattro bustine andiamo a vedere le limited dove sono eccole qui ragazzi le tre limited le andiamo a vedere subito che sono alex morgan degli stati uniti la nostra italiana barbara bonansea e sotto marta la calciatrice del brasile il numero 10 del brasile che insomma è sempre un numero importante le limited ce le mettiamo qui a fianco a farci compagnia al volo andiamo a sfogliare la guida perché magari qualcuno di voi è curioso in caso poi mette pausa al video e se la può vedere con calma qui vediamo già la carta invincibile ovviamente andremo alla ricerca su tutto delle invincibili e delle carte più rare poi ragazzi mi raccomando fatemi sapere voi anche sotto nei commenti se questa collezione la farete se magari non la farete ma vorrete continuare a vedere i video questo dipende tutto da voi dai like che lasciate dall'interesse che c'è intanto vi dico subito che le altre limited edition c'è megan rapino e sam care nel bomber di luglio queste le altre squadre con tutta la storia qua la checklist quindi abbiamo un totale di 351 carte ragazzi detto questo non perdiamoci in altre ghiacchiere questa è la mascotte molto carina tra l'altro questa è la classica guida di tutte le adrenaline molto bella anche questa ragazzi raccoglitore lo sapete ormai il bordo non c'è mai e sono anche stufo di lamentarmi ogni volta della mancanza del bordo le bustine costano un euro e cinquanta luna ragazzi andiamo a spacchettare questa nuovissima collezione dicevamo grafica che già conosciamo partiamo subito con la calciatrice delle filippine poi abbiamo desiré scott una carta girata che è la rara anzi due girate poi abbiamo toletti della francia manum della norvegia andiamo a vedere le due carte girate che sono lo stemma lo scudetto di la nuova zilanda molto bello tra l'altro che ricorda ovviamente il rugby i all blacks e sotto abbiamo legend katley partiamo fortissimi ragazzi vedete qui sotto la rarità abbiamo quattro stelline su sei ottimo ottimo davvero partiamo quindi subito forte dicevamo la grafica vi può sembrare familiare perché ragazzi a proposito di mondiale eccolo qui il raccoglitore di catar la grafica è praticamente la stessa identica del mondiale maschile ci sta non ci sta non lo so ci può stare collegarlo all'altro mondiale magari come prima collezione adrenalin mi aspettavo anche una grafica più originale ma ragazzi tant'è carter della giamaica e poi abbiamo granados della costa rica le due carte girate che ci mettiamo dietro abbiamo luis di haiti del portogallo abbiamo pinto e andiamo a vedere chi abbiamo qui abbiamo schuller ovviamente ragazzi i nomi non li conosco tutti anche perché ne conosco veramente poche e lo stemma della francia ne conosco poche ma soprattutto quest'anno mi sono avvicinato tantissimo a questo calcio femminile tra l'altro su questo canale se volete trovate anche il set completo dell'album della serie a il primo album proprio con la dicitura calciatrici così come il storico calciatori in questo caso quest'anno è uscito l'album calciatrici ovviamente non in edicola cioè non ovviamente anzi direi purtroppo non in edicola ma di questo ne abbiamo già parlato se volete magari vi lascio anche il video in descrizione o comunque lo trovate sul canale andiamo avanti con il terzo pacchettino e abbiamo castiglio la numero 10 della spagna due carte girate e poi abbiamo cam camagai poi abbiamo young lina della cina andiamo a vedere le due girate chi sono top keeper dell'olanda e sotto fans favorite minami tra l'altro la calciatrice della roma come vedete qualcosina comincio a riconoscere proprio perché quest'anno ho seguito abbastanza devo dire la serie a femminile che si gioca in italia qualcosa anche con la champions seguendo la roma la roma è riuscita a fare comunque un buon percorso anche l'interesse del pubblico sta crescendo in questi anni sono contento anche che sia uscita proprio la prima raccolta adrenaline proprio sul calcio femminile poi abbiamo qua carpenter dell'australia due carte girate e abbiamo wals e poi abbiamo lina hurting della svezia e sotto abbiamo rafael del brasile con i capelli al vento figo e poi abbiamo schmitz molto molto figo così con i capelli al vento in movimento la grafica praticamente diciamo i denti a quella del mondiale maschile boh sì forse avrei preferito una grafica un pochino più originale però che dire ragazzi io comunque lo starter ve lo consiglio sia che vi piace o che non vi piace perché innanzitutto ci sono qua le tre limite poi comunque è la prima uscita di adrenaline per chi sa anche un po il valore di queste cose sapete a quanto sta andando soprattutto ora quanto sia aumentata di valore la prima collezione di figurine quindi perché no magari anche per le adrenaline sarà la stessa cosa ne approfittiamo e ci andiamo ad aprire anche l'ultimo pacchettino eccolo qui che dicevo ho preso su vintage tra l'altro incartato molto molto bene vi ricordo che ho aperto il profilo anche su vintage quindi se volete andare a vedere qualcosa la trovate anche lì questo ragazzi è un pacchettino molto importante perché tra l'altro mamma mia ragazzi come è stato incartato bene perché questo pacchettino ci permette con queste carte che ho preso di andare a finire una collezione che c'era rimasta un po indietro che è quella delle darras elite dello scorso anno anche perché ragazzi lo sapete se non ve lo se non lo sapete ve lo dico qui sta per uscire la nuova collezione darras il 15 luglio uscirà la nuova collezione darras perché mi segue su instagram già ha visto tutto ho lasciato anche le storie in evidenza quindi se volete se ve le siete perse trovate tutto lì qui abbiamo gli inserti che mi mancavano e quindi abbiamo ribery abbiamo anche per quanto riguarda le score calabria abbiamo quadrato abbiamo tonali 8 ruchi e bosiel vicario appena trasferito al tottenham e la back through di vlavic erano poche di quelle che mi mancavano dovrebbe arrivare un altro pacchetto con la quale andremo a finire anche le score andiamo a tirare fuori con molta molta attenzione la numerata di zagnolo perché ragazzi andiamo a mettere eccolo qui nel foglio dedicato lo sapete a questo progetto dedicato alle 35 sulla roma anche se sinceramente mi fa un po rosicare metterci zagnolo ma vabbè comunque ragazzi è andata così me ne mancano solo tre una sta arrivando due stanno arrivando mi manca una sola che è pellegrini ragazzi se magari sapete qualcuno che la vende o se siete voi ad averla mi raccomando scrivetemi in direct perché è l'unica che ancora non ho trovato e tra l'altro non l'ho proprio vista in vendita quindi se magari la trovate mi fate un piacere detto questo ragazzi ci siamo aperti la prima collezione adrenalin femminile ci siamo aperti anche questo pacchetto è arrivato da vinted mi raccomando ragazzi fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate di questa collezione perché il proseguio dei spacchettamenti dipende tutto da voi detto questo ragazzi a me non resta che ringraziarvi soprattutto voi che come sempre arrivate alla fine del video e noi ci vediamo non lo so in realtà prossimamente perché dipende un po da voi non so ancora se la farò completamente questa collezione magari qualche cosina la porterò però insomma dipende anche dal seguito detto questo buona giornata